in nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vieni santo spirito scendi su di noi aiutaci a pregare con tutto il cuore o dio padre onnipotente tu hai arricchito san leopoldo con l'abbondanza della tua grazia concedi a noi per sua intercessione di vivere nell'abbandono alla tua volontà nella speranza delle tue promesse nell'amore della tua presenza gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o dio tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono e hai voluto che san leopoldo ne fosse tuo fedele testimone per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o dio nostro padre in cristo tuo figlio morto e risorto hai redento ogni nostro dolore e hai voluto san leopoldo paterna presenza di consolazione infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o dio fonte di comunione per tutti i tuoi figli tu hai voluto cristo unico pastore della tua chiesa per l'intercessione di san leopoldo silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale infondi in noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen o dio tu hai voluto maria madre di cristo e della chiesa e hai alietato la vita di san leopoldo con una tenera devozione verso di lei consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen preghiamo o dio signore glorioso e padre della vita affidiamo il tuo amore le nostre speranze e le nostre preghiere per l'intercessione di san leopoldo guarda con benevolenza ai tuoi figli ed esaudisci le nostre umili domande per cristo nostro signore amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen il signore tocchi i nostri cuori e ci vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore